la volta scossa vi abbiamo parlato dell'imbotto che era tutto il pitturato di bianco adesso rimane solo una parte delle porte ci sono volute due settimane per tirarlo fuori prima come vi dicevo la volta scorsa con il phon e poi dopo con l'acido acetico la parte più difficile è stata proprio quella della pulitura con l'acido acetico perché bisogna stare attenti a non scendere troppo in profondità per poi cancellare tutto ora vi faccio vedere tutto il risultato del lavoro grazie a tutti